ciao a tutti da marcadami siamo al colosseum sound factory di rank file austria e sono felicissimo perché oggi abbiamo chiuso le registrazioni di michel avella che un grandissimo batterista che tutti conoscete per il progetto di falco de jongluno che è un cantante e autore straordinario austriaco di origini olandesi che sta facendo un progetto straordinario meraviglioso in cui ci saranno partecipazioni importantissime dal punto di vista musicale internazionale per cui seguiteci sui nostri social network e avrete tutte le informazioni che desiderate un caro abbraccio a tutti e a presto viva la musica ciao